Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, io sono Mighty Marts e siamo qua a Warframe con il nostro mitico Nezka? Nezza? Nezza? Non imparerò mai a dirlo Oggi facciamo una bella cosetta Superiamo Urano e andiamo verso Nettuno Ho dovuto fare per 5 volte, perché qui te lo richiede Compete a 5 missioni qualsiasi tipo su Urano con la sola arma da corpo a corpo equipaggiata L'ho fatta Da quello che vedo, superando questo raccordo qua, mi dà anche lo schema per i chassis croma Che è un tenno che da tanto tempo che lo vorrei fare Che è uno di quelli che forse mi potrebbe piacere più di tutti Dico potrebbe perché ancora non l'ho mai provato Però occhio Potrebbe essere uno dei miei favoriti di tutto il gioco E quindi ben per me che me lo l'ha Però mi dà solamente lo chassis, non è che ti dà proprio tutto Tanto prendiamo quello Adesso questo c'è da batterlo Ok, è già andato? Mamma mia, è difficile? Chi è là? È morto in 3 secondi Ma che cosa è? Allora, è il secondo sogno che mi ha sbloccato anche una missione Quali missioni sono molto indietro ragazzi Gamma con schema Che non so se è buono ma credo proprio di no Il secondo sogno me l'ha sbloccato e croma chassis Sono curioso di vedere No, queste sono tutte le nostre belle missioni che faremo Cioè ragazzi a me questo gioco mi piace Perché mi piace Il problema Che bisogna passarci troppe ore Troppe Cioè è veramente infinito sto gioco qua Cioè qui quando ci hai passato 300 ore Hai fatto il 10% del gioco forse Cioè questo è un gioco che è ipoteticamente infinito Allora, non è vero di croma abbiamo anche la neuroottica Non me lo ricordavo Quindi noi facciamo lo chassis Ah no, mi manca frost chassis Ah già perché lui essendo croma Utilizza anche parti di altri Ma che balle Lo posso dire che balle? Quindi croma neurotica l'abbiamo E ci manca il frost chassis E per fare il croma chassis Mancava anche che devo fare le combinazioni di altri Che già fare e riunire tutti gli elementi Non era semplice Bisognava complicarlo ancora un po' di più Poi mancherebbe croma sistemi e volte neuroottiche Bella roba Belle balle Belle balle Belle balle Billy Belle balle Billy Sì 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 Però noi adesso da allora facciamo un secondo sogno Guarda che bello Infiltrare gli archivi Crimea E noi l'avviamo C'è anche un intro Who destroyed the Urokin Your way of life Who do you not shadow To cleanse your despair And their blood Stand them all Severed their heads Yet they rise again Someone has hidden the Tenno essence il loro vero da te. Lourdes! I know where she hides the Tennoheart. A womb in the sky, forbidden to my kind. But where you will take me. Hello. I am An-Ha, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my age. Leave it beating from its nest. Allora, prendiamo Wukongo. Andiamo a prenderci Wukongo. Poi se qualcuno si unisce, mi fa un enorme favore perché... Cosa abbiamo? Vabbè, questa ce l'ho già... Niente di importante. Allora, eccoci qua. è una missione stealth, è una delle più simpatiche missioni del gioco. A me piace tanto tanto fare le stealth e sono anche molto abile a fare le missione stealth. esattamente il contrario. Però... magari qualcuno di voi ci casca non conoscendomi. Aspetta eh... oeeh, li ho fatti tutti? ... Ma che cazzo? Ah, non c'è uno No, ma che è che mi hai visto? Molto abile Fare il mismissimo Stem Ok Basta, l'ho disattivato L'allarme Forza, andiamo Che è successo? Lo devo Passare Dove Quando Cosa devo fare? Non è chiaro Di sotto? Lì c'è anche l'armacca Hanno messo tutte le cose che odio Allora me lo fai apposta Allora 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 Non capisco che cavolo deve andare. Ah fallito, ottimo. Quindi vado in C direttamente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non sono al punto di prima, ma che cavolo è servito a loro, niente. Ma scusa, qual è il senso allora di entrare in un tunnel? acqua no non è un problema non è un problema raga che spetta di qui mi portavo non è un problema nemmeno che non è un problema e quindi non è un problema sono appena l'ho bruciato specialmente e non so non lo riusciamo aggiungere a qua perché è bene Ok, è qui? No. Anche le persone. Nessun altro? Le due erano abbastanza. Ok. Per fortuna ragazzi, due su tre li da, per fortuna. Sennò mi tocca farla un milione di volte. Vai, due su tre, l'andata è buona, non speriamo mai più. Sennò mi tocca farla un milione di volte. Sennò mi tocca farla un milione di volte.